E dopo qualche malumore che pure c'era stato con i commercianti per un leggero ritardo sulla tabella di marcia, siamo in Piazza Duomo, i lavori da quello che vediamo stanno andando avanti abbastanza speditamente, già si comincia a intravedere come sarà la piazza perché c'è questo primo tratto che è ancora chiuso però c'è il passaggio pedonale in una parte riaperto, ci fa capire come sarà la piazza, si sta andando avanti velocemente e si spera che anche l'ultimo tratto dove è stata fatta la gettata e sul quale si dovrà ancora intervenire con la pavimentazione venga fatto in breve tempo, sicuramente il maltempo ha condizionato e i ritardi sono stati abbastanza inevitabili, certo è che i commercianti della piazza sperano di poter lavorare serenamente per l'estate. Questa mattina la sorpresa per i commercianti aquilani che si sono visti riaprire un tratto davanti alle loro attività già completato nella pavimentazione, nei giorni scorsi c'era stata una riunione in comune con i commercianti un po' scocciati per il ritardo che poteva rischiare di compromettere l'inizio della stagione estiva, l'opera è da 7 milioni di euro, la sta portando avanti la pensi costruzione, un po' di ritardo c'è stato perché il primo lotto, quello davanti alla cattedrale di San Massimo con i lavori iniziali da circa tre mesi, sarebbe dovuto essere riconsegnato entro la prima settimana di giugno ma ci sono stati problemi legati al maltempo ma anche ai sottoservizi, il lavoro è complesso e durerà per tutta la piazza circa un anno. Il centro fa i conti pure con i lavori di ripavimentazione del corso stretto che procedono al ritmo serrato con la ditta aquilana rosa edilizia che addirittura dovrebbe terminare l'ultimo tratto fino alla fontana nominosa in anticipo di più di un mese rispetto al cronoprogramma iniziale, qui l'opera è da 5 milioni di euro, sempre risorse PNRR, una volta terminato il corso stretto si andrà con la pavimentazione di corso Federico II da piazza Duomo fino alla villa e poi a settembre piazza Palazzo.